La domanda è, mi capita spesso di avere un qualche disagio intestinale con gonfiore della pancia, coliche, qualche scarica di diarrea e di avvertire contemporaneamente un intenso dolore ai muscoli ma soprattutto alle articolazioni. È possibile una correlazione tra queste due condizioni così apparentemente distinte tra di loro? La risposta nella prossima puntata di Fermenti in programma su questi canali venerdì 12 aprile.